Omega Speedmaster Songkant Set, un tributo all'eleganza classica e alla tecnologia avanzata. L'orologio da polso Speedmaster Songkant Set rappresenta un omaggio all'eleganza senza tempo e alla tecnologia avanzata. Lo Speedmaster Songkant Set è una rielaborazione moderna dell'iconico modello di orologio da polso che ha segnato la storia delle esplorazioni spaziali. L'orologio combina il fascino senza tempo dello stile retro con la tecnologia all'avanguardia di Omega. Il design dello Speedmaster Songkant Set richiama l'estetica degli anni 50 e 60, con la sua cassa in acciaio inossidabile dalle linee pulite, la lunetta con scala tachimetrica e il quadrante con dettagli luminosi. Tra le complicazioni visualizzabili sul quadrante dello Speedmaster Songkant Set abbiamo, cronografo su due subquadranti ed atario a finestrella a ore 6. E, presente anche il subquadrante dei piccoli secondi a ore 9. Sotto l'aspetto vintage si nasconde la tecnologia moderna. Il movimento coassiale all'interno dello Speedmaster Songkant Set rappresenta l'evoluzione dell'ingegneria degli orologi, garantendo precisione e affidabilità. Lo Speedmaster Songkant Set ha attirato l'attenzione di appassionati di orologi e collezionisti di tutto il mondo. La sua capacità di coniugare stile classico e prestazioni all'avanguardia lo rende un'opzione versatile per chi cerca un orologio dall'aspetto raffinato e dalle prestazioni impeccabili. Nonostante il suo stile retro, lo Speedmaster Songkant Set è stato indossato da personalità di spicco, dimostrando la sua capacità di attraversare epoche e stili. Lo Speedmaster Songkant Set rappresenta l'evoluzione di una leggenda, unendo l'eredità storica con la tecnologia moderna. Questo modello incarna l'innovazione costante di Omega e la sua dedizione a creare orologi di alta qualità. Lo Speedmaster Songkant Set è un ponte tra passato e futuro, una sintesi tra l'estetica classica e le prestazioni moderne. Indossarlo significa abbracciare la tradizione e l'innovazione, con un orologio che rappresenta la bellezza intramontabile e la funzionalità all'avanguardia. La sua capacità di attraversare epoche e ispirare personalità di spicco testimonia il suo ruolo come icona del design e dell'ingegneria degli orologi.